Non consegnate Elle Italia a questa donna, la nuova inquisitrice, contro ogni forma di evoluzione sociale, di pluralismo e contro le riforme che hanno portato all'uguaglianza tra i ceti sociali, le diversità sessuali e le riforme per un lavoro adeguatamente retribuito e socialmente garantito, ma soprattutto contro la nostra Europa. La Meloni-Nion deve vincere queste elezioni. Grazie per la visione!